E' arrivato, ve l'ho promesso Il cartonato della roccia E' arrivato Raga, i 50 euro meglio spesi in vita mia, mi sa E' arrivato Dobbiamo, non l'ho aperto, voglio aprire con voi in live, ok? In più ho preparato, casomai, anche l'altra cam Non so se conviene, forse conviene questa Non lo so Un'apriamola con l'altra, poi al massimo vi faccio vedere No, meglio questa E' il grande The Rock Raga, un'altra sub a parte l'hiftrenino Intanto vi ricordo che stasera siamo buttati sul vanilla, una mezz'oretta Quindi se facciamo ben 20 sub Durante il vanilla vi droppo mille dobloni Poi potrete dropparne anche di più, eh Andare in giro e regalare qualcosina È diventato da voi, intanto ragazzi lo apriamo Oh no Allora, io ho paura che rompa però il The Rock Eeeh Ho bisogno ragazzi di un paio di Di forbici Eeeh, arrivo subito Draga, Draga Sei una roccia anche tu Grazie mille per la livello 1 Benvenuto nella ciurma Carissimo, arrivo subito Olè Olè Raga, allora vi faccio vedere quanto è grande Allora Allora aspettate, aspettate Vi faccio subito vedere Raga Vaffanculo la sedia Raga C'è Capite? Raga, io sono Allora, io sono un metro e ottanta Ok Ma è ottanta E basta Non ho tanta voglia di crescere O qualche puttanata simile Sono letteralmente Un metro e ottanta Quindi avete come Avete me come Paragone Ok E dovrebbe essere The Rock Scala 1 a 1 Ora Ah, e dentro c'è anche un mini The Rock Per un attimo ragazzi Che Flippiamo Ok Riflippiamo Minchia raga, assurdo Flip Ciao Leafy Leafy Dove è la tua sabona Leafy Intanto Stefano Grazie a 23 mesi Dai raga Raga, siamo ancora A 2 su 20 Per il drop dei dobloni Sul vanilla C'è E' arrivato anche il cartonato Di The Rock Raga Che fall C'è Dobbiamo Dobbiamo decollare No raga C'è il mini The Rock C'è anche il mini The Rock Allora Intanto Grandissimo pezzo Di cartone No raga No raga E' gigante E' una cazzo Di astronave Allora Aspettate Ok Fatemi togliere questo Ragazzi Questo Che state vedendo E' il suo pacco C'è Ha un Ha 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 un pisnello gigantesco Raga Ragazzi Come si apre Guardate Quelle miniatura Piccolino Adesso si mette Sulla scrivania Raga Raga Qua Non ce la faccio Ad aprirlo Ah Affanculo L'uso il taglierino Il taglierino raga E via Taglierino che non taglia Taglierino con la punta Arrotondata Ok Ok Oh che è successo Hai Tremino Ma come Cresigio la sabre Il taglierino Bravo Cresigio Bravo Così si fa Per la roccia Per la grande roccia Ma non esce da Non vuole uscire ragazzi Dal Da qua C'era ancora un angolino Raga E' gigante Cioè Faccio fatica a maneggiarlo Non ho maneggiato una cosa così Grande in più del mio Tra la mia minchia Scusi Questo non serve Mi sa Ma scusatemi Cioè Ma devo Non devo ritagliarlo No Raga Se la devo ritagliare E' finita Aspettate Scusatemi No Aspetta Raga No E' già ritagliato Ed è tipo Cioè Come si dice E' E' proprio ritagliato Ma incastrato nel cartone Ragazzi Questo è il mini The Rock Questo qui ragazzi E' il mini The Rock E' il The Rock Tascabile E' la roccia Tascabile Questa E' la mini roccia Che intanto E' più spessa Di me Raga Allora Aspettate che qua Sono tipo Come quei giochini Per i bambini Che c'hai La forma Che devi tirarla via E poi montare tutto Allora Così ragazzi È montato C18 E' molto È un nuovo compagno Perfetto E raga E' più grande Di C18 Adesso E' arrivato Nora Raga Ragazzi Aspettate Ragazzi È pochino gigante C'è un problema Ragazzi C'è un problema C'è un grosso problema Si sta smontando Aspettate Oh mio dio Ragazzi È enorme Raga È enorme Aspettate Come Come si monta Deve essere tipo In piedi Questo Oh cavolo Ragazzi Abbiamo un problema È troppo grande Aspettate Che qua Devo Misaggerarlo Questo così Ok Che è come il vecchio cartonato Che avevo Quello di Jason Statham Questo così Deve incastrare qua Ragazzi C'è un problema C'è un problema È un grosso problema È un grosso problema È paziente È troppo Ma non ci sta neanche dell'inquadratura E non è che È senza testa Raga Non ci sta nell'inquadratura È un grosso problema Raga ma facciamo volare sto treno Per favore C'è Ho spacchettato la roccia E siamo Malappena a livello 2 C'è Io The Rock Facci Cazzo Raga Non posso Dezoomare Ah io ho preso Quella ma Non posso Dezoomare Niente C'è Io ragazzi Sono un metro E ottanta Mi metto vicino a lui C'è capite che No bro No 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 Ragazzi è stata tipo una pessima idea E dove cacchio lo mettiamo Guarda lo metto vicino a qui Aspettate Lo metto qua Con il gioco della prospettiva Si vede Più o meno Ragazzi è gigante Lo mettiamo così Così è perfetto No aspettate 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 Ragazzi c'è un grosso problema Si chiama La roccia Raga assurdo Ma Forse lo sapete Che c'è il problema Che la videocamera Chi ha La La roba della faccia Per mettere a fuoco Si mi tolgo subito Mette a fuoco lui Raga È mattissimo così Perfetto E così ci sta Cioè devo dire che è Meglio di così Ragazzi Devo fare ragazzi subito Una storia su Instagram Allora 20% Vabbè Io ho sempre ragazzi Telefono al 20% Come cavolo può essere Ciurma Sono adesso in live Ed è arrivato il cartone di The Rock Ciurma Sono adesso in live Ed è arrivato il cartone di The Rock Ok Aspetta la raga che Pubblico la storia Un attimo Allora Pazzesco Let's go Mettiamo il telefono Sotto carica Raga Raga Datemi un attimo che Vedo Vedo subitissimo Vedo subito ora Tutto quello che è successo Scusatemi ma Allora Matteo Salvini Grazie per i 20 mesi Carissimo Ambe ritornato Draghi Grazie per i 35 Bitrelli Gamefighter Grazie per i 6 Grazie gioco Grazie per la sub Buona regalata A Liffy Ragazzi Se ne regalate sub Questa sera Vi viene a prendere No vabbè Tranquilla Anna Tranquilla Tranquilla Ragazzi Mando foto al doc Mando foto ragazzi Al volo al doc Perfetto 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 raga Gesù Cristo Draga Grazie per la sub Buona regalata Visto ragazzi Deve fare come fa draga Lui non verrà picchiato Dalla roccia Ragazzuoli Assurdo Che dire Raga Promessa Mantenuta La roccia È arrivata Come va con lo scam Vediamo Non mi ha più risposto Non mi ha più risposto Raga Gli ho detto Di V-Bucks Ma non li vuole A quanto pare Non li vuole Ho paura della roccia Eh fai bene Draga Fai bene Ragazzuoli Andiamo al volo Su Su Mincheraft Voi sapevate la roba Di Mincheraft Vero Penso di si Zoom un pochettino Là Ok Sono si tagliatino La roccia Che tipo Il titolo di Minecraft Cambia e diventa Mincheraft Immaginate Immaginate tipo Diventava Minchiacraft O Mincheraft E loro non sapevano Il termine Minchia E invece Mincheraft Mincheraft Era devastante Come cosa Andiamo Su Minecraft Va Raga Tra Tra la mezz'ora E tre quarti D'ora Andiamo poi su Stray Ok La pillota Bro Bro Ora mi sembra Un poco Too much Signor Banana Signor Banana Signor Banana Lei che fa? Vuole sfidare la roccia? Signor Banana Allora Ci siamo Raga Siamo qui Sulla Banilla Grande Banilla Allora Sì sì Adesso ragazzi Faccio un giro Un pochino Da tutti Non vi preoccupate No Non vi preoccupate Non vi preoccupate Raga No non sarei Ma ecco Signor Banana Signor Banana Dico soltanto Che le persone Hanno regalato Sub Per non essere Picchiate Dalla roccia Che sta dietro la tenda Perché si nasconde Però Vedi i muscoli? Io farei attenzione Sono Un metro e novantasette Di Di puro ferro È un Iron Golem Quanto costa Stare Non mi ricordo 20 euro circa Ragazzi Sì siamo Sulla vaniglia La vaniglia Di Minecraft Un bel gelato Dalla vaniglia Allora Ragazzuoli Per le challenge Ecco qua Per chi Accetta le challenge Andremo a scrivere In questo libro I nick Di chi Appunto Va a accettare le challenge Quindi saranno Quelle persone Che andremo a controllare Più spesso Durante le live Per vedere I progressi Ok Però Noi Adesso Non ci frega Nuno di tutto ciò Di conseguenza Ma in realtà Possiamo anche Andare a vedere Non so se è online Il tipo Vediamo No Non c'è Ci ripiamo un pochettino A caso Eh non c'è Allora Vediamo un pochettino C'è Lo devi Oh zio Ok Uh Il cleme di Giulio Oddio quanti Alleci hanno C'è Tu Birdo E me Vedi Vedi Vedete Shanghetta Dedrix Ok che sei Napoletano Però penso Che l'italiano Lo sai Vedi Che vuol dire Vedi a vedere Shanghetta Obbleco Ah è un Ma che vuol dire Vedi Vedi a vedere Sono da telefono Ma è tu almeno il telefono Detrix Perché per come scrivi Il correttore Di un'altra lingua Non è affatto Elementari Ah ok Ora si capisce tutto Shanghetta Vai ci siamo Olè Ah Che cos'è questa cosa Va bene Ah sono il villaggino Quello là A tema Eh A tema appunto Deserto Eh raga Oh Piano piano Ah ma È proprio lì la vanilla No aspetta Non è lo spawn Pensavo fosse lo spawn Uh Io penso fosse un attimo Lo spawn della nave Che era in lontananza Per me La prospettiva Naturalmente Andata a quel paese La nave Vabbè Ancora È in fase iniziale Però Oh È il villaggino Ci sta Raga Grazie per i 50 Bittarelli Questa è la loro isola Per il contesto Dei diamanti Ah ok Ok Vabbè Allora Il galeone mi aspettano Cos' Oh no Il galeone mi aspettano Cos' di meglio L'isola Ci sta Il bioma pure È un buon inizio Devo dire ragazzi Che è assolutamente Un Un buon inizio Comunque Non mi dispiace Bravo 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 Scianghetta Scianghetta Qua se Arriviamo a 20 sub Stasera Ne mancano 15 Ricevete tutti quanti Online Chi è online Ragazzi Mille dobloni Mille dobloncini Freschi Freschi Oh È il corno Richiama i mod Tieni Scianghetta Tieni Eh Belli Mille dobloni Senza mollica Con un po' d'olio A provola di agevola Di nostra produzione Anche qui comunque È Bello Oh Fanno un bel villaggio Tutto qua Bello collegato GG Bel progetto Bel progetto Mandala fuori di The Rock Allo Scammer Ma non mi ha risposto Non mi ha risposto Allo Scammer Su Discord Vai da Carestia Sto spiegando Una roba enorme Va benissimo Detrix Va benissimo TP Allora Mi sto tippando Da Detrix Appunto Sono un deficiente Carestia Non c'è Però se faccio Carestia Mi tippa Dove ero offline Ed ecco qua Minchia raga Mega quadrato Spianato Oh Vediamo che 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 combinano eh E mi dice La tua E mi dice Dici 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 tu Quando potete fare La ciurma Nei prossimi giorni Extreme La faremo I prossimi giorni Si va a fare Qua abbiamo I ragazzoli Che stanno Andando Intanto ragazzi Vi chiedo Comunque Ho in chat Su Twitch O sul server Come stanno Per ora Quest'esperienza Sul server Sulla nuova vanilla Come di vista Quelle cose Sono cambiate Sono migliorate E ditemi Se vi stai trovando Bene O male Anzi adesso Vediamo se c'è Qualche consiglio Nella cesta Dei consigli Se ciò Vogliamo fare Ok va bene Va bene Non è un segreto Va benissimo Ci sta Ci sta Ho rubato Roba che Gliela metto Qua dentro Era a terra Forse il mondo È un po' piccolo Verrà allargato Piano piano Luca Il mondo Ragazzi Il mondo È 15.000 Di raggio Quindi 7.500 7.500 In positivo E negativo Ma Dopo l'evento Del land Verrà ampliato Ok Verrà ampliato E diventerà poi 10.000 10.000 E pian piano Lo ampliamo sempre di più Anche perché Comunque Non è che sia in 300 E lo spazio Già in 7.000 Per 7.000 Per 300 persone C'è Quindi Apprendiamo che La sicilizzazione Si fa un pochino Stretta La Ampliamo Qua c'è Ah qua c'è il tronco Di carestia E vediamo Quando Porta tutto quanto Avanti È di 8k È il bordo Sì È 7.500 Era te 7.500 7.500 15.000 Di raggio E di diametro Quindi sono 7.500 In una direzione 7.500 In un'altra Poi non so Se 7.500 O 8.000 Ma bene o male Là siamo Allora Qua hanno spianato Un botto Vediamo cosa andranno a fare Tipiamaci da qualcun altro Da Mickey Mickey che sta Fai Mickey è fermo qua Che Che farma Gli scheletri Del Gli scheletri Beta Della Deep Dark Mamma mia Che posto Veramente brutto Devo dire Allora Allora Oh Le richiamate Mod Quindi Abbiamo qui Invece ragazzi Un progetto Nelle nevi Della giungla La montagna Incredibile Un altro Ok 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 Si adesso ragazzi Pian piano Mi giro tutto Non vi preoccupate Facciamo un bel giretto E poi andiamo appunto Su Su Stray In quanti Ragazzi State aspettando Stray Vediamo Ah Guarda Quaggiù Che c'hanno Hanno fatto Qui la cosa Per scendere Piano piano Cos'è sta Cosa Qui Sto buco Aspetta Sono Stunnato Però scendereò Ancora per di qua C'è un mob spawner Con qui anche Uno shrieker Vabbè Spawniamo Li warden Qua c'è per un altro Mob spawner Ancient city No Parebbe di no Ah non bel lavoro Da fare Ah Ah cavolo Oh cavolo Invece c'è Guardate Qui Ma questo è figa Che c'è anche la cosa La La mineshaft Sopra C'è anche un warden C'è anche un warden Qui Ma l'hanno già lootata? Eh no 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 Come si apre claim Slash claim Allora Ti piace Da qualcun altro A caso Ti hanno detto Sono due insieme Sono due Altre due insieme Attaccate Magabbo Magabbo può essere Davvero Ragazzi Spawn rate Spaccatissimo Allora No Non mi sembrano due Attaccate No No ragazzi È una Il portale È uno È bella grande Ma il portale È soltanto uno Quindi no Non sono due No no Eh mi sa Di sì Ciao Mi sa proprio Di sì Comunque se vi fai Delle zone belle Per buildare Vai Ok Allora raga Qua c'è Il grande cap Che è il taccuino Allora raga Qua c'è Un bel posto Dove andare a buildare Tant'è Che hanno messo Praticamente Una chest Con Attestato Build Da cap Il primo che arriva E prende questo oggetto Ha la proprietà Di questa zona Raga Se vi interessa Minchia raga C'è Ha tutto Questo spazio Ghiacciato Che è incredibile Va di roba Che c'è E avete Poi Villaggio Attaccato Per i villagers Se vi interessa Ma avete Anche Tutta questa Montagna Innevata Le coordinate Sono 5651 136 42 31 Primo che arrivo Meglio alloggio Raga Sembra Abbastanza Bella Come zona Eh si Oh va C'è pure un altro Villaggio Bella Bella Ma questa qui È una zona Ragazzi Per progetti Giganti Dovete essere Tipo almeno Inventi Perché Questa qui In una zona Si dovrebbe Buildare Tutta Per Come è Fatto il Territorio E il bello Ragazzi Non abbiamo Usato nessuna moda Generazione Vanilla Senpai Non ti saprei Di Sinceramente Apri un ticket Casomai Allora Ci ti pede Qualcun altro Andiamo 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 Da lui Allora No Lui sta ancora Scavando Ok Ah E qui che c'è Qui c'è il claim Di Little girl Con Una Con una Costruzione Ok È ancora Abbastanza Mistica Questa costruzione Non sappiamo Cosa Andrà a buildare Però Va bene Ci sta Ci sta Andiamo alle tempo Allora Andiamo Da qualche Da qualcun altro Da Matti B E allo spawn Ok Sta picchiando Con un tipo Nicola Ale Noi miniera Ciao carissimo Tieni in diamante Bro Tieni Tutto tuo C'è nella Lush cave Ok Raga Mi tipo a caso Non mi dite Tipi da me O altro Mi tipo a caso Da Da chi già sono stato Naturalmente Non mi ci ritipo Ma ho sbagliato Mentre lo dicevo Proprio Ho pure sbagliato Dai lui Ok E qua che c'è Ah Già grande Magazzino Abbiamo qui Ma è Manuale Oh Matti Oh aiuto Aiuto Mi sono Glicciato Oh Ah Aiuto Aiuto Mi sono Vabbè Ragazzi Sono diventato Una colonna Andiamo a vedere Andiamo a vedere Qua che è Ok Loro se non sbaglio Ragazzi Hanno fatto La richiesta Per questa Zona Privata Che appunto Gli verrà data Hanno in mente Un bel progetto Stasera O domani Riceveranno Gli accessi Per questa Zona privata E di conseguenza Potranno iniziare A buildarci Infatti hanno fatto La base Qua vicino Favetta Grazie per la Livello I 14 mesi Carissima Grazie mille Ci stanno Tenendo i muri Raga Bello Bello E c'è sta zona Che è Devastante Questa E poi c'è Un'altra Simile Questa è proprio Tonda 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 Questa qui È Wow Quando entri Nessere Devi aprire un ticket Nico Devi aprire un ticket Tonda Che se tu Loggi C'hai proprio Un'immagine davanti Che ti spiega tutto No è bella Come zona Ragazzi È veramente Bella Veramente Bella Allora Ti pioci Devo alcun altro Ci tippiamo Da 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 Random Lui Simo Ah è la zona di prima Ok Grimfontein Proprio lui Ok È nella barchetta Dopo giochiamo A A Stray Raga Ma Tra un quarto Da dieci minuti Siamo ancora Un pochino Nel vanilla Come sta Mentre la roccia Bene bene Sta bene la roccia Da NG Non c'è NG Purtroppo Sbam Content Flower È nel Nether Mi sa Ah sta Facendo Grande Ponte Allora qua c'è una bella Fortezza Ok Oh vabbè Dai Ah è col trattino Basso Ah sì Ecco qua Hello Torci il redstone Che sta combinando Qua Oh Ma Salve Mi faccio un pochino I cavoli vostri Ah è quella zona lì tutta Con la scalinata Salenchant Ah vabbè è molto modesta Raga Molto Molto basilare Ve lo dico Molto basilare Comunque Qua hanno fatto un piccolo Ponticello Ma hanno tolto L'acqua Hanno fatto tipo Una diga Qui Raga Che figata Ma che bello Proprio qui che Cioè loro qua possono fare Che il fiume va qui Si crea qui la cascata E qui ci sta la diga Ma le mangrovi Ah ci sta Casetta carina Caruccia Ah c'è un villagers Si chiama Luigi Ah con me Ok ok Ah qua hanno fatto la farm Tipo Eh si questo qui Tipo come si chiama Non il granaio Vabbè avete capito Ok Con i mob Diana Si faranno una cascata Artificial No ma allora ragazzi In questa nuova vanilla Ci sono tanti progetti Veramente interessanti Si i tetti in piedra Raga Sono un poco Un poco meme I tetti in pietra La ponte mi sembra Non ricordo Ah si Ah C'è proprio tutto naturale Così Figata I dobrani sul vanilla Servono per lo shop Per comprare Dei blocchi decorativi Altre decorazioni I trasporti E minerali E doblani potete fare appunto O vendendo minerali Oppure facendo i lavori E si è una stalla Una stalla E che mi viene il termine Perché che avvisi Zombie villager Non vanno uccisi Ma intrappolati Attenzione È richiesto di contributo Di doblani Da parte di tutti Così da poter espandere Il claim Giusto Giustissimo Nel nedre come sono messi L'ho fatto tipo Con i blocchi Mi sa il percorso Per andare alla ghiaccio via Vedete Sperando che poi raga Ah c'è proprio la fortezza Qui lol E c'è la ghiaccio via Infatti sotto Raga A proposito della ghiaccio via Andiamo un attimo Allo spawn Per Ah sono da parte opposta Andiamo un attimo raga Allo spawn Per Vedere i vostri libri Dei consigli Olè Allora raga Vi dico che c'è un cannone Che non andava Ma mi sa che è stato fixato Esatto Olè Bam Eccoci qua Sì sì Ho visto Ho visto Ho visto Allora 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 Eccola qui Questa qui ragazzi È la casetta dei consigli Allora Vediamo Leggiamo Olè Abbiamo Idea vanilla E skin restorer Vediamo Allora Potreste aggiungere I plugin skin restorer Per aggiornare le skin Senza riviare il gioco O per semplicemente Per chiamare skin al volo E Non so quanto sia utile Come cosa Alla fine Ne parlo con gli altri Ma E vediamo Dove parlare ragazzi Con gli altri Più una roba tecnica Questa qui Che è deciso Nella mia Idea vanilla Idea Inserire la possibilità Di far visualizzare Le quest traccate Sullo schermo Esempio in alto a destra Ok Rialzare Allora Lo spawner Dei mob Ho fatto tanta fatica Per creare i mob spawner Ed ora non spawno A mezzo mob Mettere i claimer Inominabili Aggiungere una linea Per la whitelist Slash blacklist Nell'hopper Ah Degli hopper Ah quindi Praticamente Questo Questo qua Mettere una linea In più Ok Ok Lui è naturalmente Come vedete È proprio furbo Capito Che non va Perché non lo prende Non lo piglia Bro Eh esatto È vero È vero Detrix È vero Allora Queste idee Me le metto Ragazzi Nell'ender chest Ok Che poi ne parlo Con gli altri ragazzi E Allora Per quanto riguarda Le informazioni Sì Già stavo pensando Di mettere La scoreboard a destra Con appunto I progressi Dei lavori E E altre info utili Quindi la classica Scoreboard a destra Come tipo All'hub Per esempio Eh non ti so dire Ciao Non ti so dire A me se la condividi domani Dando non cambia nulla No Sinceramente Inside Non mi ispirano Ormai come giochi E poi insieme Ti scade Tra Un'oretta Bene Bene Non penso Atti Non penso No Non le conosco Anna Non le conosco Tra quanto Stray Stray Raga Cinque minuti Dieci Adesso le nove e un quarto Andiamo a giocare a Stray Ragazzuoli Mi Ops Mi tippo da Da qualcun altro E poi Let's go Non c'è nessuna password Allora Qua che abbiamo Abbiamo diversi letti Ok Una base Penso Ah ok Ma sono sempre questi qua Ok Mamma mia Sono un botto Andiamo Da 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 Lui K Lui niente Sta esplorando Ok Mamma mia Ma No raga Comunque la nuova generazione È incredibile C'è Strabella Sì Pure di Di Ma 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 è quella Di qualcuno È quella Di Di Vincenzo Era già di Vincenzo È infatti È infatti È infatti Yes Toasty Sì 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 Comunque Il claim Il nome del claim Ragazzi Cambia Quando poi Vi Vi abilitiamo La ciurma Se si ridoni Ad avere una ciurma Il claim Cambia Con il nome Della ciurma Andiamo Da Vibe Allora Perfetto Mi sembra Giustissimo Ragazzi E da Qualcun altro Da Elisa E del Nether Mi sa Olè Niente Sta scavando Ok Ok Sta cercando La nederite Orca Cazzozza Di bordello Che c'è Qua sotto E hanno Cercato ragazzi La nederite E Avete visto Multiversus Ma io C'ho la key Del gioco Ho Ho la key Dovrei ancora Scaricarlo Installarlo Tutto quanto Ma ce l'ho Andiamo da sedia Con l'h Grande sedia Ah è lo spawn Ok Ok Ragazzuoli Che dite Andiamo un pochino A giocare A strain Ok E Grazie.